Questa giornata ci può insegnare che quando le istituzioni lavorano insieme si possono ottenere grandissimi risultati. Io se posso approfitterei di questo momento per ringraziare da parte dell'esercito il Presidente della Regione Puglia e attraverso lui tutte le istituzioni locali perché per noi il Poligone Torre Veneri e la Scuola Cavalleria rappresentano un'eccellenza alla quale non possiamo rinunciare. Se questa scuola è un'eccellenza e questo Poligono è un punto di riferimento per tutti i nostri giovani ufficiali, sotto ufficiali e allievi è grazie a questa bella collaborazione che si è realizzata. Ne approfitto anche per prendere un impegno al nome dell'esercito. Lavoreremo tutti i giorni stancabilmente affinché questo bellissimo pezzo di Salento che ci è stato affidato continua ad essere bello come lo è oggi. Grazie.